Rompete le righe in casa Vellino oggi per i lupi che si sono visti al partenio Lombardi per i saluti finali, niente più allenamenti in casa Bianco Verde. Mister Novellino ha concesso le vacanze al gruppo Bianco Verde con i calciatori che quindi possono liberarsi dai impegni ufficiali. Weekend di riposo anche per Mister Novellino che si trasferirà dalla sua famiglia a Perugia, ma per il tecnico è già programmato il ritorno in Erpini alla prossima settimana per mettere definitivamente Nero su Bianco al contratto annuale con opzione per il secondo anno che lo legherà ai lupi. Ovviamente solo dopo l'ufficialità dell'operazione Novellino potrà sbilanciarsi sui programmi futuri in casa Bianco Verde, programmi che giocoforza dovranno prevedere una definizione definitiva dell'assetto societario. Difatti questi saranno giorni particolarmente importanti fatti di incontri e dialoghi per mettere la parola fine all'organigramma societario e di conseguenza dare il via al presente e futuro del club Bianco Verde. Si lavora dietro le quinte ma con la stretta necessità di accorciare i tempi d'azione perché organizzare la prossima stagione è una priorità che dovrà essere completata nell'arco della prossima settimana. Di certo ad una settimana esatta dalla chiusura della stagione con la salvezza conquistata giovedì scorso contro il Latina, importanti novità e passi in avanti sono stati fatti, come l'intento di ripartire dal recente passato e quindi con Novellino in panchina e la riconferma di un nucleo importante della rosa Bianco Verde.